Ehi la ciurma, io sono Manzates e ben ritrovati in questo 71esimo episodio di Expeditions VIKING Allora, ho recuperato tutto quello che c'era là, questi tizi non ci dicono nulla Qua mi fa vedere che posso rompere robe, però Non lo so, voglio provare un attimo a tornare dai bambini e vedere se per caso ci dicono cosa Magari abbiamo trovato delle chiavi dai tizi che abbiamo tirato giù adesso No, no Ho potuto provare a venire di qua, ho paura che gli altri si triggerino, però non ho altro che si possa fare ora Nel dubbio salviamo Ok, fa restare tutti Ok, là in fondo a destra c'è la cella di Manzates, ma ci sono sei guardi e sono armate... non troppo Non sanno che siamo qui, pensi quello che sto pensando? Ehm... se pensi di andare là e col piede dietro le due più vicine, eh sì Ok, vanno là vicino con... calma... proprio vi ritrovate là da sole Siete qua da sole? Beh, comunque sono... in quattro... non sono i sei? No, sono i sei... no, sono i quattro... questi sono gli altri due, scusatemi Ah no ci sono i cani! Ehm... andrei sul cane se vedo bene... ma... ehm... non hai lancia dietro, no? Ehm... andrei sul cane se vedo bene... ma... ehm... non hai lancia dietro, no? No... critico? no... non credo è stato a Harriad Ehm... personal dust... practical moves... mech... anticipate opening... charge... non anticipate opening... criança ha non essendo rum delicato Mi ti qui mi Eccola Non del tutto, ma... Sì E se non è tornato a tirarti giù Dov'è la nostra... Nell'aerolettrovie, porca miseria Allora, tu muoviti qua Intanto la nostra raccera, porca miseria Nei ferici, sì Così è flunked Facciamo anche uno shield No, c'è uno stun, non so se riesce Yes Yes, così abbiamo tutti e due col death Blow Sì Two more country Two more country Sì, si scoppano le... Bongo Yes Bravissimo E tu adesso Invece Avrai il ruolo di Fare tanti bei danni Andi... C'è no Grazie per l'invito! Ottimo! Può anche tirarlo giù un morkantino da questo. Vuoi togliti dai piedi, please? Sveina, riesci? Ottimo! Abbiamo ucciso solo uno per sbagliare a prima istanza. Ok. Ok. Scusate. Anche questi. Ok. No, un'uscita è possibile. E la è anche un'altra possibile uscita. Probabilmente questa è più sorprendente. Ok. No. 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 5 punti! Tutto bene? Grazie per essere venuto qua a salvarmi Il nostro tag Ti seguiremo più tanto che viviamo Facciamo di qua Allora, prendiamo gli altri Ok Dobbiamo dividerci Io prenderei quelli che sono Un po' più State da portare in questo momento Per cui 5 Arcella, combattente Prendiamo ancora Sveina E Va bene Gli altri probabilmente avranno dei malus Da tirare sotto che sono qua in prigione I bambini, i bambini, i bambini Adesso possiamo tirarle fuori Ok Dovevamo aspettare di liberare l'altro per averlo come distrazione Ma no, in realtà è baccato Guarda, sono tutte giù Vabbè Ho cliccato più volte sulla porta Ma non me la faceva aprire Vediamo se riusciamo a Occuparci di Questa roba Ok 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 Ah, c'è una cripta qua Ottimo 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 Però sto tranquillo Solo quando Ah, siamo già direttamente qua in chiesa Come hai fatto Faresti meglio a dirmi che non hai niente da fare con il mio arresto, vescovo No, sono stato stupito come tu Quando, come te Quando il re Ha ordinato il vostro arresto È vero quello che dici di te Hai ucciso con la pressione a Mark Chester Per poi venire Ah, no, non sono quei tipi di là Solo per poi capitare a Eoforwick per essere arrestato Non penso Chi è il mio accusatore? Una della tua stessa razza Non ricordo il suo nome Ah, cavolo, è la donna Redguard La conosci? Sì, è una cosa che dobbiamo Di cui dobbiamo occuparci più tardi Volevo dirti che il culto è stato sradicato da Lega Chester Oh, grazie a Dio per aiutarci Attraverso questo Non erano satanisti E' solo degli ati Riferente può essere accademica Ma spero che queste persone occupano più Lega Chester Abbiamo dovuto scendere la violenza Molti di loro sono stati uccisi E adesso sono scappati Posta a Dio avere L'età delle loro anime Ok Ok, ti sei provato servitore di Dio Sei rischiato le vostre vite Ok, prendete questo Siete ora salvati Va bene Va bene Allora io direi che Ah no, è ancora presto per riuscire comunque Per salvare e chiudere tutto Doviamo tornare da Wada Ma possiamo uscire dalla porta principale? Scusate E più che altro abbiamo Mi sa adesso la possibilità di Uppare tutti Vereno? Sì Sì, sì No, forse quasi tutti Non tutti, tutti, tutti Tipo Sveina ancora No Sveina cos'è che ha come Top Caccia E caccia a livello 5 No No, scusa Nefia Nefia è scout Ah, scout costa solo 10 Poi non è il top E scout Mi sa che Nefia mi conviene Più che altro metto gli spear Che è 18 Vabbè, allora potremmo Uppare praticamente tutti Mi sa Sì, con gran piacere E nulla Andiamo a farlo off camera Questo Per evitarvi il tedio E così Se riusciamo a portare l'altra Allora, al livello 5 Possiamo ottenere un sacco di cose Dal tinker E migliorare le nostre armature E tutto Quindi in realtà Siamo già abbastanza OP Per cui tutta quella roba là Non è che ci servirà più di tot Eh, però Ci consiglia di scappare di qua E anch'io scapperei di qua Molto volentieri Non siamo ben visti Ok, diventa un'area da guada Che è qua Però siamo tutti stanchi Nel mentre Per cui Dove ci accampiamo Very low Low Very high Ma con bassa sicurezza Andiamo qua Tanto abbiamo troppo bisogno Di cibo Abbiamo un sacco di Proviso Di reazioni Eh E l'altra è ancora su Tra l'altro Non è ancora tornata Sfala Allora Haife Che cosa faceva Haife? Cacciava? Sì Lei non può preservare Perché non abbiamo niente Da preservare Ma lui ha dell'hunting Andiamola a cacciare un po' Perché secondo abbiamo più tanta carne E tu Abbiamo qualcosa Qualcuno da curare Ah Sì Io sono Messo malino No aspetta Secondo lo mettiamo su Hades Che non ha niente a fare Se no Siamo così Abbiamo tutto Ah Io ho ancora Dei turni liberi Però Non posso fare Niente in realtà Per cui Proviso tutti Perché non abbiamo carne Abbiamo consumato Delle razioni Le persone medicelle Le abbiamo conservite Non troppe Ma va bene Ci stiamo Dai Siamo a posto Ovviamente Ho fatto tutti i dialoghi Con la camera grande Ma va bene Allora Ma sotto In zona che ci allontana 7 1 ora Questa non c'è lontana Troppo 10 di legno Arriviamo là Senza essere morti Tipo Più o meno Per calcolarci Prima Per sicurezza Adesso Non abbiamo Troppa fretta In questo momento Non so cosa Che ci manca Di accampamento Quella di liberare Perché abbiamo liberato Praticamente tutto Allora Witchcraft Tu invece Fai un preserve Tu fai un Preserve Ma non è un grand che E E Abbiamo carne Tutti Quanta carne Va male 9 Facciamo così Allora Tanto lo scout Non è che lo stiamo usando Più di tanto Per ora Non abbiamo bisogno Di tutte quelle risorse Ok Più carne Più razioni Benissimo Solo meno di erbe Ma quello è normale Abbiamo anche una bella cifretta Versa da parte Ah no Siamo tutti Vabbè Abbiamo allungato di un po' Vabbè Allora Prendiamo il solito gruppetto Andiamo a vedere un po' Qui da poco interrompiamo Andiamo solo a risolvere La missione Ci dirà E va bene Adesso mi puoi aiutare Quello esco Aiutami per nare Di quest'altra cosa E Continuarà così Per un po' Perché siamo Solo metà Allora Tracks Andropping This forest Must have been rich With game Before the warriors Came Ok Ok È venuto di nuovo È stato un po' Ralentato Per questo Non sono contento Che sei tornato È stato incastrato Da dei vecchi Nemici Redguard Ci ha seguito In questi Queste spiagge Un nemico Che ti caccia così Lontano da casa Non abbandonerà Facilmente Ci dà guai ancora Come è andata La tua missione Bene Ci ha fatto fare Una missione Ma poi Ho accettato Sì ho sentito Un po' Di questo Anche Uno strano occulto Nelle rovine Di Deva Victrix Molto misterioso 10 punti Repite il momento Stai lavate Col sangue Ok Stati esagerati Di sicuro È stato Una diversione Interessante Abbiamo imparato Un po' di più Da questa zona Ok Ok Ecco King Ghostred Sta cercando Leati Da sud Merce Dovresti interromperli E uccidere E uccidere Gli emissari Ok Direi la prima Ok Farei la seconda Cioè che per ora I nostri interessi Si allineano Ok Va bene Devi sapere Dove si incontrano Per conto Tu Possiamo avere Le informazioni Va bene Ok Ottimo Per cui adesso Dobbiamo andare A occuparci Di Questa Andare a impedire Che lui Sia lei Con Con gli altri Detto questo Io vi ringrazio Per la visione Vi saluto Ciao a tutti E buona giornata